A grandissima richiesta, oggi allenatori, andiamo a spacchettare la nuovissima collezione di Alakazam V! La prima collezione di questo 2021. E con un po' di fortuna potremmo anche trovare il Pikachu V-Max Hyper. Ma quanto costa questa carta? Molto, anzi moltissimo. Attualmente super ricercata, anche perché di pacchetti di voltaggio sfogorante ce ne sono sempre di meno. Arriverà una ristampa? Spero di sì, perché anche sul Federick Store c'è rimasto poco e niente. Una volta terminati i display, l'unico modo per reperire le bustine di voltaggio sfogorante sarà proprio dentro questa collezione. E quindi, se volete acquistarla, la trovate sul Federick Store, link in descrizione, per anche preordinare i nuovi massi di Blastus e Venusaur. Che spacchetteremo questo venerdì. Siamo tornati con gli spacchettamenti, sono veramente carico, non voglio dilungarmi oltre, quindi vi auguro una buona visione. Ed eccolo qua, il nostro illusionista. Con tanti cucchiai, ma purtroppo una evoluzione scartata nel gioco di carte collezionabili online. O almeno così era, fino a poco tempo fa. La causa, durata vent'anni con The Pokemon Company, è terminata. E Cadabra torna! Finalmente, reperite tutte le carte di Cadabra in circolazione perché saliranno parecchio. Un esempio, Cadabra set base. Insomma, a breve il nostro illusionista tornerà in azione e noi nell'attesa ci apriamo questa bellissima collezione, tutta sbrilluccicosa. Ed eccolo qui. Quanto è bella sta carta. Forse la mia V promozionale preferita. Signori, ma qui andiamo a spacchettare voltaggio sfolgorante. Che non ci omettiamo il cappello, eh? Eh, nell'attesa di destino splendente. Lo usiamo ancora un paio di volte. Governa la mente con Alakazam V, con i suoi potenti poteri psichici e un paio di cucchiai lucenti. Alakazam V è in grado di superare in astuzia i suoi avversari nel campo lotta. L'intelligenza del Pokémon Psico, le sue incredibili capacità in memoria, ora saranno al tuo servizio. E quindi ragazzi, Alakazam controlla la vostra mente, la controllo anche io, quindi un bel mi piace adesso, grazie. Allora, cosa contiene questa fantastica collezione? Abbiamo una carta promozionale di Alakazam, una carta gigante di Alakazam, quattro buste di espansione e una carta codice per il gioco di carte promozionabili online che tra poco regalerò a uno di voi. Signori, io non sto più nella pelle, ma altre quattro bustine. Che fai? Non ce le aggiungi? Fresche, fresche da un nuovo box. Sapete uno dei problemi maggiori di queste collezioni? Qual è? La colla è veramente pessima. Da quando hanno deciso di rinunciare alla plastichina intorno alle collezioni, sono veramente diventate molto più fragili. Tant'è che molte volte me lo scrivete anche voi, che acquistate dal Patrick Store. Patrick, la mia collezione è arrivata aperta, non dipende da me. Ma date Pokémon Company, che deve iniziare a cambiare la colla, dannati. Se no poi mi dicono che ho scammato la gente. Allora, intanto vi beccate sto codicino regalo da Federick. All'interno abbiamo due di voltaggio, un Sintonia Mentale, ma pensa te, e Spade Scudo ci può stare. Sono tutte bustine abbastanza valide, eh. Voltaggio per Pikachu, Zazian in Gold Version in Spade Scudo e Sintonia Mentale, ovviamente, New e Mewtwo Hyper. Allora, ma quanto è dannatamente figo. Guardate che sguardo. Con Cucchiaio Zen e Signore della Mente 30x. Metti tre segnellini danno sui Pokémon del tuo avversario nel modo che preferisci. Mentre, Signore della Mente, questo attacco infligge 30 danni per ogni carta nella mano del tuo avversario. Mamma mia, Signore della Mente fa male, eh. Mamma mia, pensate se il nostro avversario dovesse avere in mano più di 10 carte. Wow, 300 danni dritti dritti. Ed eccolo qua, il nostro Signore della Mente. Ma che gli volete dire? È bellissima. E qui lo abbiamo nella sua versione standard. Eccolo qua, eh. Promozionale Sword and Shield 83. Bella, Signore. Tra l'altro, a breve, sul Federick Store, dovreste trovare tutte le espansioni disponibili. Quindi partendo dal set base fino a Voltaggio Sfolgorante. Stiamo facendo un lavorone, ragazzi, che ormai dura da più di sei mesi. E trovate anche la sezione con tutte le promo. Quindi qualora non voleste comprare una collezione in particolare perché costa troppo ma volete solo la promo, la trovate nella sezione promo. Questo l'avete consigliato voi qua sotto nei commenti. Quindi, a breve. Secondo me, tempo qualche settimana e ci dovremmo essere. Un bel 8 su 10 a questa promo. Bene allenatori, non mi voglio dilungare oltre. Quindi andiamoci a spacchettare la prima bustina di spade scudo. Quindi vi regalo, come sempre, il codice. Via! Vai con questo pack opening. Il trick è sempre lo stesso. Lo conoscete? 4-2. E niente, divertitevi con me. Iniziamo con questo Roselia. Chihuitel. Abbiamo Bleep Bug. Non vedo l'ora di aprire Destino Splendente. La nuova espansione che dovrebbe arrivare proprio a breve, allenatori. Quindi io non vedo l'ora. Abbiamo Pokegear. Energia Aurora. Ferrotorn. Krogank Reverse. E abbiamo Zassian V! Yes! Anche se purtroppo è stato ristampato e ristampato. Fa niente. Comunque sia una bella pullata, eh. Devo dire. Per una bustina ci sta. Condizioni direi anche ottime. Non presenta pieghe. Puntini bianchi. Direi ottimo! Una bella carta. Andiamo avanti con Sintonia Mentale. Vai! Mew2Mew. Lo troviamo? Dai! Lo sto ancora cercando, eh. Avrò aperto non so quante bustine. Di nuovo il trick. 1-2-3-4. 1-2. Non ho sentito grattare, eh. Sarebbe bello ogni tanto sentire grattare. Andiamo con questo P-dub. Abbiamo Poi-Pol. Namel. Hexio. Finna. Oh, ma questa pronuncia così British. Weenout. Type Zero. Poche fanatico. Noctowl! E abbiamo Meloetta. Con Garchomp e Ghiratina nello sfondo, eh. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Questi artwork, come ci sorprendono a volte. Via, ragazzi. Con voltaggio sfolgorante. Ben 6 bustine. Per trovare il dannatissimo Pikachu V-Max Hyper. Quindi ci proviamo. 1-2-3-4. Uuuuh! Sento del gratto! Uuuuh! Ragazzi, lo sento, eh. Lo sento ed è... Uuuuh! Potrebbe essere. Potrebbe essere. Lo sento un po' grattare. E questa proviene proprio dalla collezione di Alakazam. Quindi non era il pacchetto che ho aggiunto io. Attenzione, ragazzi. Chiwi Doll. Abbiamo energia buio. Oggi si scula, eh. Oggi si scula. Sculo Federic. Vediamo un po'. Galvantula. Zamasenta. Amazing! E... E abbiamo Poppy! Uuuuh! Che pack! Collezione Alakazam. Direi niente male. Con una bellissima Amazing e anche Poppy. Wow! Collezione Alakazam. Che ricordo potete trovare. Ovviamente sul Federic Store. Se siete nuovi utenti avete il diritto anche al 5% di sconto inserendo il codice Federic. Al momento dell'acquisto. Questo lo ricordo. Se siete nuovi. E che fate? Non lo fate. Un test sul Federic Store. E dai! E qui abbiamo anche la dama Poppy. Bella, bella. Forse 30 anni fa. Anche di più. Lai era una milfo probabilmente. Ma bella Poppy. Bella, bella, bella. Ultimo pacchetto della collezione Alakazam B. Che devo dire che con i suoi poteri psichici finora ci ha soddisfatti abbastanza. Vediamo un po' ragazzi se gratta un altro po'. Non lo so, non lo so, non lo so. Vediamo, vediamo, vediamo. Andiamoci di questo Deden. Carinissimo. Faroseed. Skidduo. Blizzol. Rockruff. Direttamente da Alola. Duskholps. Fossilia Distratis. Ferrotorn. Exeggut. E un bellissimo Banette. Con questo artwork che spacca! Allenatori, che dire? Collezione niente male. Abbiamo droppato un bellissimo Alakazam. Un bel Zamazenta Music. E poppy per non parlare di Alakazam. Quindi diciamo che quattro bombette ce le siamo portate a casa. Sicuramente più del valore dei 24,90 della collezione. Andiamo avanti con le bustine che ho portato io. Direttamente da un nuovo box appena aperto. Quindi vi vado a regalare come sempre il codicino. E vediamo se questo Pikachu insomma si fa sentire. Si fa scoprire, no? Che noi ancora non l'abbiamo trovato, questo Pikachu che ormai vale più di, penso, 190 euro tutti. Eh, bella bomba, eh, Pikachu. Abbiamo Voltorb. Energia metallo. Energia lotta. Fossilia. Gogoat. Harakuda. Con un bellissimo Tornadus olografico. Tra l'altro una holo molto particolare perché come potete vedere l'olograficità va anche sulla carta. Incredibile, è vero? Penso che con questa qualità voi la riusciate tranquillamente a vedere, no? Ottima qualità. Ho cambiato telecamera. Spero che insomma la differenza si noti. O comunque la percepiate. E via. Altro pacchettino. Aperto con stile questo, eh. Mi raccomando se ancora non l'avete fatto un bel pollice da lì in su. Che venerdì ci apriamo la collezione. Con Venusaur V e Blastoise V. Mi raccomando, ragazzi. Nuovi mazzi V. Quindi, conto su di voi. Qua ragazzi sento che c'è qualcosa. Non lo so. C'ho questa sensazione. Vediamo un po'. Dai. Hitmontop. Trambic. Maecina. Bellezza. E Pikachu V! Ci siamo andati vicini. Oggi, ragazzi. Sculo Federic. Devo dire che non è male. Sculo Federic ogni tanto torna. Visto? Non spacchettavo da veramente tanto tempo. Bene, bene, bene. Un bellissimo Pikachu V. Via. Altro codicino, ragazzi. Penultimo pacchetto di oggi. Non sento sto gratto. Non sento il gratto. Ci proviamo. Wubat. Poi abbiamo Clobopus. Tainamo. Trabbish. Wismore. Energia Acqua. Galvantula. O Galvantula. Dipende. Abbiamo Crocorock. Flareon Reverse. E questo di Algaolo. Ragazzi, stiamo droppando come dei maiali. Siamo dei maiali. Guardate che figo. Di Algaolo. Cioè, ma stiamo veramente facendo schifo. Oggi si fa veramente schifo. Rimanete con me perché ho da mostrarvi una cosetta a fine video che non è male. E via con altro Pax, ragazzi. L'ultimo di oggi. Vediamo se ci regala un'altra Olo. Sarebbe abbastanza improbabile. Ma, insomma, ci proviamo. E gratta! Gratta ancora, signori. Gratta. Uuuu. La. La 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 la. Mamma mia, signori. Che cos'è? Questo paccoming. Che cos'è? Halo. Ragazzi, se è Pikachu. Ragazzi, potrebbe essere Pikachu. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Quando è Hyper, potrebbe essere. Potremmo droppare Pikachu. Vediamo, vediamo. Uuuu. Azzurra! Ma che drop! Ragazzi! Cosa sta succedendo? Che figa! Eh, vabbè. Azzurra però esprime proprio... Fierezza da tutti i pori. È da tutti i pori di Azzurra. Eh, wow. Un po' con queste dita messe in questo modo. Non mi demonetizzate il video, please. Bello, 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 bello. Spettacolo, ragazzi. Asurra. Bella. Bella come poche. Ma io scommetto che ai tempi Poppy era anche più bella. E ai tempi sì. Oh, ragazzi. W amazing. E doppio allenatore full art. Che pacco opening spaziale. Le concludiamo in bellezza perché... Ho da mostrarvi questo. Oh, yes! Controllo qualità! Non faccio spoiler. Ve ne parlo nel prossimo video. Quindi vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. E tante cose belle. Allora, il pacco opening termina qua. Un bel like, un commento. Iscriviti al canale. Passate sul Pedrick Store per fare tutti i vostri acquisti Pokémon. Se no, dannate. Dannate se non sul Pedrick Store. Dai! Poppy, sculatina. Asura, niente male. E ci vediamo al prossimo video. Un like, un commento. Iscriviti al canale. Ciao, gente!